Noi questa mattina abbiamo discusso sia pur sinteticamente anche di vari aspetti della situazione internazionale contrassegnata da tanti vecchi e nuovi cocolai di conflitto, di tensione e anche da gravissimi conflitti armati che non riusciamo a superare, basti pensare al disastro che ha compiuto l'insieme degli scontri militari in Siria basti pensare a quanto ci preoccupi ancora la situazione a Gaza e la linea su cui Italia e Austria sono schierate è una linea di ricerca dovunque attraverso il dialogo del negoziato e della soluzione pacifica di tutte le questioni compresa la questione che ha fatto irruzione nei rapporti europei e nei rapporti tra Europa e Russia, cioè la questione ucraina.